Benvenuti alla bottega didattica, sono Gianfranco Marini e questo è Quiziz, è un ambiente o applicazione web per creare e gestire quiz da somministrare agli studenti che utilizzeranno i loro dispositivi mobili per rispondere. L'indirizzo è quiziz.com e diamo subito uno sguardo per capire il meccanismo con cui funziona Quiziz. Clicco su Get Started, questa è la pagina pubblica, io non sono logato di Quiziz e qui abbiamo tanti quiz realizzati da altri docenti e vediamo come funzionano. Cerchiamo un quiz di storia, ecco qua per esempio il Medioevo, questa è la pagina del quiz, per giocare il quiz clicco su Play, posso avere il link. Questo è un quiz pubblico fatto da qualcun altro ma ha messo a disposizione. Queste sono le domande, come vedete sono le risposte, c'è il tempo, posso cominciare, mi chiede di loggarmi chiaramente. Abbiamo visto come funziona il quiz, andiamo a loggarci, voi dovrete registrarvi. Ecco qua scritto la mia mail, la password ed eccomi su Quiziz, mi chiede chiaramente di giocare il quiz ma io invece vado alla mia pagina e vi mostro come si crea un quiz. Chiaramente clicco su questo pulsante Create, qui in alto a sinistra, e mi compare l'editor. Mi chiede di dare un nome al quiz, di aggiungere una copertina, c'è un'immagine, io scelgo un'immagine a caso, aggiungo un nome al quiz, e indico anche la lingua in cui è scritto, posso decidere se renderlo pubblico o privato, se lo rendo pubblico o è disponibile per chiunque, io rendo sempre tutto per principio pubblico. Done, fatto. Ed ecco qui l'editor del quiz. Sulla sinistra compariranno le domande, non ce n'è ancora nessuna, e qui l'anteprima e non c'è ancora niente. Cominciamo con l'aggiungere, col formulare, chiedo scusa alla domanda, in questo riquadro. Per esempio, chi era Carlo Magno, chi era Carlo Magno? Le domande dovranno essere brevi, ricordiamoci che lo scopo è quello di visualizzare sul display di un dispositivo mobile, uno smartphone, un tablet, ancora ancora, ma lo smartphone è già piccolo come display. Vediamo le risposte, chiaramente le scriverò qui. Una qualità di bere, un papa, un imperatore, non ne ho idea. Dobbiamo indicare quale tra queste risposte è corrette cliccando sul pulsante a fianco a ogni risposta. Qui vediamo le varie soluzioni colorate, quello che comparirà agli studenti saranno appunto questi quattro colori. Chiaramente è un imperatore. Posso anche, se voglio caricare un'immagine, cliccando su questo pulsante, Adesso io caricherò un'immagine, per esempio, Google Image, cerchiamo Carlo Magno, immagini, ecco qua, prendiamo questa, la visualizziamo cliccando su visualizza immagine, la salvo sul mio desktop, per fare prima, ecco qua, salva, e a questo punto, torno su qui, ziz, e carico l'immagine, andiamo sul desktop, e cerchiamo Carlo Magno, ecco qui, doppio clic, e l'immagine è caricata, come si vede, è molto semplice e molto rapido. Ho concluso la mia prima domanda, posso anche formattare, per esempio, posso cambiare il colore, come vedete, posso aggiungere simboli, tra cui simboli matematici, frazioni e via dicendo, ce ne sono tanti, geometrici, eccetera, e quindi è molto usata anche da docenti di chimica, di matematica, di fisica. Bene, chiudiamo adesso qui, e immaginiamo di aggiungere un'altra domanda, giusto per dare un po' di suspense, quale capitale è per l'Italia prima di Roma? punto interrogativo, qui scriviamo Cagliari, Torino, Firenze e Bologna, per esempio, anzi, no, facciamo Napoli, così andiamo anche a sud, e ovviamente Firenze, segnerò come risposta corretta. A questo punto posso dire di aver concluso, posso editare nuovamente le informazioni del quiz, ma mi vanno bene così, questo è tutto a posto, e quindi clicco su Finish. Ah, dimenticavo, posso anche regolare, ecco, il tempo delle risposte, 3 minuti, 60 secondi, posso arrivare fino a 15 minuti. A questo punto, comunque ho concluso, qui dovrò indicare il livello scolastico, quindi indichiamo una classe terza, ora sposto il cursore, trascinandolo, ecco qui, K12 sarebbe un K11 se non sbaglio, indico anche la disciplina, History, posso inserire dei tag, per esempio, medioevo, rinascimento, altri, oppure inserirli a mano, separati da virgole, e a questo punto ho finito e creo il quiz. Ecco qua, la pagina del mio quiz da cui posso gestirlo. Questo è il pulsante per cominciare a giocare il quiz, questo per duplicarlo nel caso voglia rendere più difficile, più facile, modificarlo conservando l'originale, questo per editarlo, questo per cancellarlo. Qui ho il link, che posso copiare per, per esempio, inserire su AddModo, e quindi comunicare il link ai miei studenti. Ecco qua, copio il link, vado su AddModo, che in questo caso ho già aperto, terza bistoria, copio qui il link, anzi, lo incollo per essere più esatti, e clicco su Allega. Ecco qua. Adesso scrivo un messaggio, per esempio, risolvete a casa questo quiz, oppure posso scrivere, domani faremo questo quiz, insomma, quello che voglio. Può essere un quiz formativo per ripassare, per esempio, oppure da giocare in classe. Torniamo al nostro quiz hits e vediamo cos'altro possiamo fare. qui abbiamo le nostre due domande, il tempo, posso anche, vedete, visualizzare la domanda, a questo punto non ci resta che giocare il quiz. Bene, queste sono le opzioni di configurazione della quiz. Come vedete posso attivare la prima opzione, che è molto importante, jumble question, vuol dire che le domande saranno mescolate, in modo che i ragazzi non possano copiare, per esempio, stessa cosa posso fare, qui è già attivo, vedete posso attivarlo cliccando, mescolando le risposte, in modo che anche l'ordine delle risposte cambi, per cui non ci si possa ricordare al mio compagno a risposto C alla seconda, alla domanda su Carlo Magno, quindi C è la risposta giusta. No, perché le risposte sono mescolate. ho attivato, è attivata di default anche l'opzione, mostra le risposte al termine delle operazioni e mostra i risultati del quiz agli studenti, di tutte le risposte che hanno dato a tutte le domande. Questi sono invece dei parametri che riguardano il gioco in generale, e cioè mostrare mentre si gioca sulla LIM, per esempio, o tramite videoproiettore, la leaderboard, quindi la classifica, insomma, degli studenti, il tempo, un meme, a seconda di come si è risposto apparirà una figurina, e musica, la musica la togliamo, per esempio, e andiamo avanti giocando il nostro quiz. Bene, adesso gli alunni si dovranno logare a questo indirizzo, con il loro smartphone, per esempio, e potranno a questo punto cominciare a giocare. Io lo apro nella scheda a fianco per mostrarvi come funziona. devo prima copiare il codice, perché gli alunni dovranno inserire questo codice per collegarsi a questo gioco. Vedete, questa è la pagina di accesso, mi chiede di digitare il codice, io incollo il codice che ho copiato, e procedo. Inserisco un nome, io inserisco sempre Pippo, e mi unisco al gioco. A questo punto scelgo un meme, un'icona, questa è l'icona che mi rappresenta, che brutto. Questo è quanto comparirà sul PC del docente, o se lo stiamo proiettando a parete o con una limb, sulla limb. Tutti potranno guardare se sulla limb, solo il docente vedrà invece, qui avrà tutti i nomi di tutti gli studenti che stanno partecipando, appena sono tutti pronti potrà cliccare su Start Game. Ecco che abbiamo anche un conto alla rovescia, questa è la visualizzazione dal punto di vista dello smartphone della luce, uno, ed ecco la prima domanda, uno dovrà con il dito cliccare sulla risposta giusta, un imperatore, punteggio, e il meme appare e sono primo in classifica, dato che siamo uno. Seconda domanda, questa è la barra del tempo che mi avvisa del trascorrere del tempo, quale capitarebbe in Italia prima di Roma? Facciamo Napoli, anche se è sbagliato, e non mi dà nessun punto e compare un altro meme. Benissimo, a questo punto il nostro quiz è terminato, e io sono primo anche se ho sbagliato una volta. Questa è la sintesi di tutte le mie risposte, in modo che io possa vedere cosa ho sbagliato. Posso condividere il risultato nei principali social network, adesso torniamo qui, e questi sono i risultati finali, però vi mostro quelli più significativi di un altro quiz. Come vedete si possono fare anche quiz di una certa complessità e non fatti di filosofia, su Cartesi o su Democrito, andiamo a vedere per esempio i risultati del quiz su Democrito, cliccando qui sopra. Questo è un quiz che ho utilizzato per valutare due mie classi, per quanto concerne la conoscenza della filosofia di Democrito, vedete sono 18-20 domande, diversi livelli di difficoltà, andiamo però a vedere i report, cioè i risultati di queste prove. Per esempio prendiamo questo, questo è un quiz che è stato giocato da 23 alunni, clicchiamo e abbiamo il nostro report. Per ogni domanda vedete ho la percentuale delle risposte, infatti sono nella visualizzazione domande. E quindi mi dà per ogni domanda quanti alunni hanno risposto bene, quanti alunni hanno risposto male. Posso anche cliccare sul più, in questo caso il nome degli alunni è la risposta che hanno dato, che ciascuno di loro ha dato. Posso attribuire i voti cliccando su Player, per esempio decido che ogni risposta vale un punto, le domande erano 20 e quindi 10 sarebbe 5, 12, 6 e così via. Abbiamo qui disposti in ordine decrescente tutti gli studenti, per esempio Rashid è andato molto bene, ha risposto a 16 domande su 20 e quindi avrà 8. Posso anche vedere quali domande ha sbagliato, a quali ha risposto correttamente. Posso anche scaricare i risultati cliccando questo pulsante, ecco qua, si aprirà un foglio di Excel, in questo caso abbiamo LibreOffice, è un po' un macello, vedete perché qui ci sono per ogni alunno, mi riporta tutte le risposte ad ogni domanda, complicato da leggere, però può servire per vedere i livelli di difficoltà delle domande e così via, intervenire. Adesso chiudo. Bene, questo era Quiz It, è molto semplice da utilizzare, ci sono problemi magari nella fase della somministrazione del quiz, a volte gli alunni hanno questi smartphone che funzionano malamente, la connessione va e viene, ecco però su 6 volte che l'ho utilizzato 5 volte ha funzionato quasi bene. È tutto, arrivederci, buoni quiz e buone valutazioni.